Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi all'allenamento cardio di quelli che piacciono a voi e a me dove si lavora tantissimo sull'agilità, sulla forza, sulla velocità eccetera e si fa cardio non annoiandosi, che è una cosa che io soffro tanto quando faccio cardio soprattutto ad esempio se devo correre mi annoio dopo 5 minuti invece questi circuiti anche molto stimolanti dal punto di vista mentale mi fanno divertire e mi fanno passare la sessione di cardio in colume mentalmente 5 esercizi primo esercizio wall runs voi sapete che i nomi me li invento al momento allora wall runs, contro il muro e corro ginocchia alte wall runs ma mi vedete è molto buio spero che mi vediate perché io vedo tutto molto buio però sarò io che so cieca il secondo esercizio è di quel genere che piace a noi e si chiama pike ankle touch più turning tables si, turning tables di Adele non c'entra niente con il nome di questo esercizio ma mi piaceva praticamente si fa così pike questa è la piramide si fa ankle touch porto avanti giro appoggio mi giro su torno qui e cambio ankle touch giro mi appoggio appoggio le piante dei piedi qui sono giù e su e stringo le chiappe dove siete stringo le chiappe ok quindi giù giro appoggio pike tocco terzo esercizio si riportano sui battiti mi odierò per questo esercizio perché è quick feet più tuck jump quindi ogni quattro passetti faccio un tuck jump significa quick feet quindi un due tre quattro poi per riportare un attimo giù i battiti plank sit back più elbow to knee quindi plank sit back elbow e per finire in bellezza dei semplici half burpees yay quindi i tempi di esecuzione sono 45 secondi di lavoro con 15 secondi di pausa fra un esercizio e l'altro quindi ogni esercizio occupa un minuto essendoci cinque esercizi il circuito in totale dura cinque minuti quindi io farò sui cinque giri al fine di fare un workout di 25 minuti 5 per 5 25 yes ma potete decidere di farne di più di meno io non so se durerò 25 minuti ma ci provo e basta quindi adesso inizio faccio il primo giro insieme a voi i primi cinque minuti e poi vi lascio alla vostra morte alla mia morte e vedremo se sopravvivo ai cinque giri ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti